ben a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della new craft oggi stiamo sempre con emerald e raptor pino pinuccio raptor pino che cazzo i problemi ai raptor no non lo so raptor diventa sempre più stupido allora negli episodi precedenti a questo siamo andati in caverna e nostra questa nella cesta e c'è tipo tutta questa roba qui più tutta la roba che ha messo a cuocere che nessuno ha preso perché è un figlio ma in realtà l'ho preso io un po di roba figa c'ho sei stack di roba nell'inventario preso tutto devo dire allora rega dato che comunque abbiamo voglia di iniziare a fare i materiali oggi andiamo a sdoppiarci i materiali con la thermal expansion infatti ciò c'ho la thermal expansion andiamo a farci oggi la redstone furnace e il pulverizer anzi iniziamo a fare il pulverizer ma si facciamoli tutti e due e poi penso che facciamo gli steam dynamo perché altrimenti non so come cazzo mandarli avanti non voglio fare le fornaci dell'industria craft che effettivamente ci sono industria sì che ci sono perché per il momento c'è ancora la grec tech figa guardate come cazzo si fa un water mill state male c'è la grec tech quindi se gentilmente ci dire se levarla ottenerla fatecela togliere fatecela esatto perché è tipo troppo complicata quindi preferisco preferiamo fare la thermal e penso che il laboratorio lo faremo tipo qui sopra per cucinare perché c'è un pezzo di paglia a nessuno interessa ovviamente abbiamo fatto che le vedono perché abbiamo tipo ucciso una storm di enderman e quindi ggwp per noi e basta tergiversare io faccio la fornace aspetta star nuoto tra tre due ok perfetto thermal expansion faccio la redstone fornace voi fatemi un pompino fate il pulverizer che si fa lo stesso modo però con la flint che cazzo fai emerald perché fai trick shot con la colpisce mi sono dimenticato che cazzo devo fare ok redstone fornace iniziamo a fare questo che culo tra 8 pezzi di oro in un altro episodio quindi subito con il redstone exception coil vi rendete utili o devo fare da solo no va bene cosa dobbiamo fare no no faccio fate il pulverizer please no copper gear ci abbiamo il copper non abbiamo copper bene mi sembra che saranno giuditi in caverna eh zero copper figa rega bella andiamo in caverna è stato un piacere quindi tre episodi andiamo a zappare tutti assieme incredibile il raptor deve seguire la redstone tu mi raccomando segui la redstone ma qualcuno tipo si è fatto il waypoint della caverna oh sta la gara schifo che è successo? te laghi oh si è bloccato il pacchetto è colpa tua non risponde non risponde stacca boh io vado a 60% costanti lo sento ormai lontano al raptor oh dio che cazzo è successo si sono aperte tutte le ceste insieme oh mio dio bravo eh qualcuno ha il waypoint della caverna oh ho trovato una caverna no porca puttana il waypoint della caverna dove? aspetta 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 ce l'ho io ce l'ho io ce l'ho aspetta no 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 emerald tippati qui tippati qui tippati fast ok adesso guardate giù oh oh ma io non vi vedo interessante eh lo so eh o uh oh ok adesso vi vedo si ciao bello ok andremo nella mineshaft che oh porca miniatta 2 creeper 2 creeper 2 creeper uuuuututututututututututututututututututututututututututu cazzo i creeper no fanno stu fanno fanno quittare le persone i creeper vienichia nooo ok come vedete io c'ho la nostra priorità è il copper perché senza copper non possiamo fare un idrozzo ti è passato davanti te meriti solo di esplodere ok mi farò esplodere no 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 scherzo figa che buona hai fatto raptor penso che ci farò un ralenti con I believe a figa non riesco a salire con la faccia di metano perché? con la faccia di metano metano faccia di merda prendeteli quei cosi li non c'è copper non c'è vino mio signore figa quest'acqua è ovunque ma se entriamo in ste mineshafter aspetta io chiedo quest'acqua come faccio a chiudere sta acqua ragazzi io vado a fare una missione suicida vado a chiudere l'acqua si era bugata la texture guarda qui qua sotto continuo si lo so ma io vorrei andare nella mineshaft ok saliamo qui figa che è scalofatto ho chiuso l'acqua ho chiuso l'acqua ho chiuso l'acqua si sei un coggione noi come risaliamo porco io ne ho visti di coglioni ma raptor lì no? no no e poi si dice che i coglioni camminano a coppia non è vero ok figa non c'è copper non c'è copper allora ragazzi ci dovete dire come cazzo si spacca sta black granite perchè è tutta nera ma non si spacca è della greg tech ma io ancora figa non mi ah si l'ho portato in legno e non ho carbone mio signore lui è carbone ragazzi ma se io ti provassi e poi lo buttassi al citare un piccolo di diamante e vedere se si spacca col piccolo di diamante ma perchè tu non lo prendi un po' in culo e stai un po' zitto dai se si spacca quella roba quella roba no comunque pezzo di no perchè se non lo riesco a spaccare io non lo puoi spaccare nemmeno te vabbè ma te non c'hai piccolo di diamante però si ma ho quello di zaffiro che almeno gli stessi utilizzi si è la stessa cosa mi guarda figa ti dice pure quanto fa di attacco si rompe con piccolo di diamante raga si eh vedi dammene un pezzo su a vedere per cosa si usano ok ah è della greg tech no che cazzo dici sul serio è della greg tech che cazzo di vermi buongiorno raptor buongiorno eh non serve a un cazzo è un blocco da decorazione e fa schifo perfetto il singhiozzo raga porco ah ok perfetto dove trovare tipo delle ceste e ste varie cose si infatti è quello che vorrei trovare perchè vabbè che col culo che ci abbiamo noi non troveremo mai un cazzo vabbè bravo raptor siamo proprio delle brave persone che non cittano assolutamente no non andiamo in creative perchè emerald muore e vuole ripetersi il suo piccone di stone non era l'altro ah scusa era di ferro no e di che era di sperma era perigot vabbè sperma in pratica allora raga lo smistamento in questa serie qui lo faremo intanto c'è qualcuno che mi tira le frecce ma non ha capito che queste frecce gliele infilo su per il culo una per volta a partire dalla freccia ecco questo è una cosa abbastanza OP andavo a scuola a scuola a scuola adesso sul serio sto al zappa però vi dicevo faremo ovviamente qui lo smistamento però la facciamo con una mod che è fatto apposta praticamente è l'app ed energistics eee è una mod tipo troppo OP creeper non voglio quittare dalla serie please ah raga un'altra cosa figa raga vi ti pare un attimo qua perchè mi stanno spaccando il culo grazie ehm oh ciao creepa oh oh che madonna raptor di mer ahahah quello non lo condi ahahah oh creeper oh ma questo non c'è più vero hai mezzo cuore oh no no hai mezzo cuore no 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 raptor muore tra 3 2 ti ammazzo la meraviglia ti amm... ti amm... ti amm... ti amm... nooo è vendetta fu incredibile in realtà questa è la seconda volta però va bene incredibile raptor si è vendicato si router i miei oggetti eh sono qui emerald dietro di te past and fools dietro di te io pia emerald guarda il lato positivo sei morto e sei andato a far compagnia a paul walker nooo questa brucia questa era brutta e modo dislike ammaletta oh oh chest un diamante un forze eh beh i track chi se li incula beh adesso me la piglio i pumpkin seed me li prendo e tutto il resto oh la force shard prendi la force shard la piglio però e poi ve l'ho preso tipo che a momenti sono quasi pieno e vedo due emerald ok poi lo faccio piglio ok eh vi dicevo raga purtroppo non sappiamo quando rispetteremo la cadenza di questi video perchè come è iniziata per voi la scuola per me inizia l'università raptor emerald dove ando ancora a scuola quindi diventa già più difficile beccarci infatti oggi ci siamo trovati a registrare e oggi nulla ehm non era per oggi la la serie infatti se avrebbe dovuto uscire venerdì sabato non mi ricordo più venerdì e tipo ve la state vendendo di giovedì quindi per il momento la cadenza non c'è cadenza se vediamo che va bene cercheremo di fare il possibile per portarvi quanto più episodi possiamo eh però non vi assicuriamo niente perchè come ne possono uscire tre in una settimana ne possono uscire anche zero e ho trovato lo spawner di di chita morti eh lo spawner di chita morti comunque tutto quello che volevo fare io non verrà affatto in questo episodio perchè io ancora non ho trovato copper ed effettivamente è molto triste cioè capite che ho uno stack di tin ma non ho copper attenzione gli interi ci sono qua dentro che? veramente gli interi ci sono qua dentro vabbè ma quindi ma quindi se io buco di qua vado da raptor si bella raptor bella oh si scende voglio i diamanti li sento oh force shell questi qui oh i power roll le force gem sono buonissime le force gem tipo la dartcraft è abbastanza OP come mod però i macchinari i macchinari sono OP sono OP effettivamente sono un pochino non legit perchè tipo si fa troppa roba con quella mod ma si oh oh questo è dell'APED subito la prendo il certus quando lo vedete prendetelo subito ovviamente per lo smistamento chest bisognerà aspettare parecchio perchè comunque ne serve tipo a quantità industriali il quarzo e oh 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 e faremo anche la farmina di questi qui che sono i baush che culo nascondevo un altro quarzo praticamente se non mi sbaglio sono della industrial craft no della tinkers ah è vero della tinkers cazzo dico e la tinker probabilmente è una delle altre fornaci che vi faremo vedere perchè OP OP si fanno dei picconi che sono OP come la madonna questo lo piglio assolutamente perchè è il coso delle esperienze ci si possono fare le farm e guardate qui se io metto questo coso qua dammi un diamante e esperienza per me oh io ho un diamante ah si l'essence bear è un'altra cosa che faremo è della magical crops presa presa la magical crops la useremo troppo perchè con la magical crops ci sono i diamanti diamanti redstone lapislazzuli il cazzo di emerald che non c'è quindi lo possiamo farmare cioè non esiste il cazzo di emerald però noi con questa mod possiamo craftarglielo finalmente perchè vent'anni senza pisello è un po' un problema visto che non pisce da condannato emerald oh pepistrello pepistrello oh trovo altri pezzi di emerald che però si chiamano peridotite non ho mai capito il motivo come ho fatto emerald secondo me dovresti citarli per copiare no io li denunzia denunzia grazie oh io sto scendendo ovunque ma porco ah ma voi sarebbe giù di me porco schifo è uno sballo mi piace no in realtà c'è emerald che è tipo in culo eh appunto che cazzo ci fai emerald ma che ne so raga c'era un pestino qui oh non ci hai invitato figlio di puttana schifoso le oh non è topazio questo ah regale probabilmente le mod che eviteremo come la peste sono l'arts magica perchè sinceramente mi fa un po' schifo oh 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 finalmente e eviteremo come la peste anche la biome supplenti che non serve a cazzo alla fine cioè solo per estetica ma niente di che e poi eviteremo come la peste forse forse la industria craft è giusto per portarvi quello che non abbiamo portato nella old craft tipo il reattore nucleare che fa abbastanza energia per esempio e tipo porteremo avanti queste serie finchè non lo facciamo esplodere il server perchè facendo troppi impianti ovviamente esploderà come se non ci fossero domani praticamente voglio puntare al fatto che il raptor o giri a un fps in questo server oh oddio quindi vuol dire che deve far girare una 7.70 a un fps esatto quindi ci impegneremo porca puttana ti facciamo per il computer da capo ti elimino da youtube ragazzi non vedete più video perchè date mi ha fatto implodere la sigla video ah e sei gentilmente nei commenti diamante 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 ah ragazzi poi ci possiamo fare una domanda la stessa domanda in tutti i video in tutti i video eh emerald no 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 io ho bestemmiato emerald ti conviene prenderti la tua roba qui perchè ce n'è tanta io nel frattempo me ne vado a casa così emerald non può ammazzarmi e sono al sicuro vai via segui la redstone che cazzo è perchè la redstone è ancora qui segui la redstone eh comunque è bellato un po' di roba comunque ho da censurare una mia bestemmia si ma come mi ci tipo io la adesso eh tipati da me con il tuo latest death con il dio tipati da me figa esistono i waypoint usali segui la redstone tra l'altro non so l'ho levata eh forse da tua roba però ma official auto ok raga io direi che come minata può andare più più bene no raptor perca butta ma perchè dai si moltiplica perchè buttate la flinta e le stringhe in questo cazzo di cosa perchè buttate la cacca di 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 pipistrello quindi mi mangio il mio piccolo madonna ecco il tien ah glielo dato al raptor credendo fossi te eh niente raga questo episodio finisce qui in descrizione trovate solo il canale di raptor perchè emerald non merita di ammazzarmi iscritti e quindi io vi saluto e bella bella raptor vi salutare tanto ti elimino il saluto stai stai